Buongiorno a tutti bambini, in questi giorni di nostra assenza dall'ospedale, noi tutti operatori della fondazione dell'ospedale Salesi, abbiamo pensato di tenervi un po' compagnia con le nostre varie attività. Io sono giocoterapeuta, per cui vi va ad iniziare? Allora, vediamo. Sì, tu potresti andare. Sì, sì, sì. Aspetta, 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 che c'è... Oh, bellino! Bellino, che faccia simpatica! Cosa? Non mi guarda tutto, però dai, oh, scusa. No, 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 vabbè, prendiamo. Boh, però tu, tu sei quei due cornetti, secondo me tu sei... No, 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 tu non vai qua. Oh, ma chi c'è? Chi è questa pacciocca qui? Chi è la pacciocca di zia? Chi è la pacciocca degli ali? Chi è? Bellino, fai la pappa, fai la pappa, fammi, fammi una tanta, mi piace, mi sa che scelgo proprio te, sì, bellino. Oh, ma tu è ancora più pacciocchina, più occhina, più pina, chittina, più pina. Mi sa che quegli occhioni mi hanno conquistato. Scelgo te, bellini. Ma chi è? Chi è questo tenero muscolo piccolissimo, amore? Chi è? No, 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 senti, piccolina, mi ha detto di lavar le mani con la mucchina e tu sei la più piccina che c'è. Mi sa che scelgo te. Ciao, tesoro. Tabaccino. Baccino agli ali. Ciao, bellina. Andiamo a lavarci le mani così siamo puliti e possiamo cominciare.